E Pino Rigoli, il nuovo allenatore dell'Agropoli, manca ancora l'ufficialità da parte della società cilentana guidata dal presidente Domenico Cerruti, ma l'ex trainer dell'Akragas è già arrivato in città e ha persino diretto il suo primo allenamento, a cui hanno assistito tanti tifosi giunti al Guariglia per osservare da vicino la prima giornata di lavoro del tecnico messinese, integralista del 4-3-3 di stampo Zemaniano e uomo di polso. Rigoli, che per due anni è stato alla guida dei siciliani, prende il posto di Egidio Pirozzi, esonerato dopo le brutte prove contro Torrecuso e Battipaiese e per un rendimento insufficiente sul piano del gioco. Ad Agropoli dunque va in scena l'ennesimo ribaltone tecnico, il terzo consecutivo, con più o meno lo stesso copione e per rimediare a un avvio di campionato incerto, con la formazione agropolese lontana dalle zone alte della classifica, nonostante un organico costruito per il vertice. L'addio con il tecnico che fece grande la Sarnese è stata una decisione molto dolorosa, ma ci è sembrata l'unica soluzione plausibile. E' quanto afferma il presidente dell'Agropoli attraverso il sito ufficiale della squadra, aggiungendo che in tali circostanze le colpe sono di tutti, che lo staff si assume la sua parte di negligenza, e che Pirozzi è un professionista esemplare, un ottimo allenatore, che ha portato i delfini al risultato più importante della loro storia. Pirozzi però denuncia che nei suoi confronti c'è sempre stato un po' di astio e che alla fine della sua avventura con la squadra cilentana resta l'amarezza di non essere riuscito a capire il perché della situazione creatasi. Dispiace perché il calcio è la mia vita e rimanere senza significa togliermi tutto. Sono le parole dell'ex dell'Agropoli che Rammaricato conclude dicendo che non sempre gli insuccessi vanno attribuiti agli allenatori. Intanto oggi alle 18.30 nell'Aula Consigliare del Comune di Agropoli si terrà la conferenza stampa di presentazione di Pino Rigoli il quale illustrerà il processo di rinascita che proverà a cambiare il volto dell'Agropoli.